Se vogliamo raggiungere l'obiettivo bisogna fare una vittoria a Bergamo e cercare di avvicinare le altre squadre, iniziando a pensare sempre a noi e quindi ci vuole una vittoria, ci vuole, sappiamo che incontriamo un'altra squadra che ha i nostri stessi obiettivi, che gioca in casa, che viene da due vittorie casalinghe consecutive è una sconfitta credo immeritata vedendo le immagini a Torino con la Juve quindi mi sembra una squadra in salute, che ha giocatori anche di qualità importanti però noi dobbiamo andare a giocare nella nostra partita da una parte consapevoli dell'importanza della gara dall'altra parte comunque sereni, da non arrivare troppo carichi alla partita perché poi quando arrivi in quel modo magari non riesci a fare la prestazione giusta Quando giochi in trasferta di solito sono le altre squadre che devono fare la gara e tu sei più in attesa magari per colpirle quindi da una parte potrebbe essere, secondo me potrebbe essere meglio perché comunque quando c'è da fare la gara per le piccole e medie squadre come siamo noi come può essere l'Atalanta è sempre un po' più difficile è più facile aspettare e poi ripartire in linea di massima quindi quello non deve essere un problema e poi abbiamo fatto, insomma, nell'ultimo periodo abbiamo fatto delle buone cose secondo me fuori casa, forse a parte la Lazio abbiamo fatto più fatica abbiamo incontrato una squadra molto forte però le altre partite le abbiamo fatte in maniera giusta quindi questo secondo me è una cosa che potrebbe infastidire più loro quello che giocano davanti al loro pubblico che potrebbe caricarli di responsabilità maggiore grazie grazie grazie